Ehi, ora puoi pagare tasse con l'arte perché la notizia di accordo tra il governo francese e Maya Ruiz Picasso, figlia del noto artista spagnolo, ha fatto il giro del mondo. Per evitare la pesantissima tassa di successione, Maya Ruiz ha deciso di donare nove opere. La ministra della cultura francese, Roselyne Bachelot, ha sostenuto il segreto fiscale, dichiarando però che entreranno a far parte della collezione del museo nella primavera del 2022. Durante la conferenza è stato svelato solo uno dei dipinti destinati al museo parigino, intitolato Bambino con un lecca-lecca, seduto sotto una sedia. Quadro cubista del 1938. A detta del nipote dell'artista Oliver Widmeier Picasso, il soggetto sarebbe proprio la stessa Maya, nella preziosa collezione dell'opera più datata è Don José Ruiz, il ritratto del padre Picasso del 1895. E allora ben vengono le tasse pagate in opere d'arte. Grazie a tutti.